Io comincio da una cosa molto semplice, che dietro ogni convegno, ogni organizzazione, ogni congresso c'è sempre il lavoro formidabile di compagni e compagni che ne garantiscono lo svalgimento. Quindi io vorrei iniziare in primo luogo facendo un ringraziamento personale e collettivo, in primo luogo a Tre Corbiani, che hanno gestito l'organizzazione, cioè la compagna Chiara, Ada e Anna Maria e poi al compagno Fabione, che veramente diciamo, se no non ci sarebbe stato tutto questo. Grazie, brave e bravo. Ci sono poi altri compagni che sono dichiarati molto disponibili, non faccio neanche che sono andata a prendere i compagni stranieri, ma fanno tutta una serie di viaggi che a loro volta sono stato un pezzo del funzionamento dell'Orbitro. E no, dammi tempo a tutto. E poi naturalmente ci sono altri compagni che hanno garantito la funzionalità tecnica, da sempre il prezioso elettricista, microfonista, diciamo tecnico del suono, Giorgio Carlin, e poi naturalmente al nostro Michelangelo Antonioni, che diciamo nella persona di Bruno Frottini, che ringraziamo. E poi naturalmente diciamo così, ma questo vedremo dopo, diciamo, non ci sono più le delegazioni politiche italiane, né quelle straniere qualcuna rimane, poi sulle straniere torno verso la fine, per ora ringrazio le forze politiche e sindacali che hanno voluto partecipare alla nostra conferenza, che sono però un'espressione anche della credibilità di questa organizzazione politica. Sono un sintomo anche del successo. L'hanno ritenuto di dover venire a confrontarsi con noi, anche dopo tutte le vicende che noi abbiamo conosciuto. Bene, da cosa partiamo? Partiamo da questo. Mi pare che noi, è stato detto, siamo dentro una lotta di classe durissima. Questo è il lamento. Tutte le cose che sono state dette in questi giorni. Noi, tutti noi, abbiamo partecipato fin da ragazze alla lotta di classe. In realtà se scegli di stare col movimento dei lavoratori, sei partecipi della lotta di classe. Se non lo fai, oltretutto favorisci il nemico di classe. E però mai ci siamo trovati in una situazione di questo genere. Io non penso, come dice anche il mio conterraneo gallino, che la lotta di classe viene fatta da una sola parte. La lotta di classe continua a esserci le due parti. Solo che una parte lo fa in una condizione di difesa, di demoralizzazione, di scarsa efficacia. L'altra lo fa, fino in fondo, con una consapevolezza storica anche. Perché loro sono forti per due ragioni. Perché hanno il potere e hanno la ricchezza. E quindi hanno la consapevolezza di se stessi. Sotto la semplice forma che sanno che non devono perdere i loro privilegi, devono difenderli, riconquistarli fino in fondo. E ogni capitalista sa che se non regge la concorrenza con gli altri capitalisti, va a fondo anch'esso. E quindi collettivamente devono combattere, fino in fondo, contro la classe operaia. In questa fase, per aumentarne fortemente lo sfruttamento e garantire certi livelli di profitto e di sopravvivenza collettiva e del singolo capitalista. Non si può mai dimenticare. Loro però hanno anche una struttura ideologica, culturale, per cui loro formano i loro quadri. Loro conoscono la storia. Loro sanno come le classi dominanti hanno mantenuto il potere come vogliono il potere. Loro formano i loro quadri, in modo verticistico, in una combinazione tra potere economico e ciascuna A. Per esempio, prendete Berlusconi. Ha un potere grande, la borghesia italiana, che vorrebbe farne a meno, ma non riesce a farne a meno. Perché è parte di quella borghesia, perché conta. Perché è una capacità di organizzare un consenso popolare attorno a se stesso. E quindi questa è la borghesia che fa la lotta di classe. E oggi questa lotta di classe è una violenza senza paragoni. È l'idea di tornare effettivamente indietro. Cioè, quel che è in discussione è la rimessa, cioè, quel che è in gioco è l'attacco e la rimessa in discussione di quei diritti politici e sociali conquistati nel secondo dopoguerra. Il secondo dopoguerra non è il corso normale della storia. Il secondo dopoguerra in Europa è l'espressione di una serie di avvenimenti storici e il portato della lotta di classe del movimento dei lavoratori, compreso il fatto che c'è stata la rivoluzione di ottobre, che ha obbligato la borghesia a costruire, ad accettare quel compromesso, a fare una serie di concessioni. Oggi questo è finito. Non c'è più. Non è più praticato una cosa di questo genere da parte della borghesia. E quindi bisogna avere l'assoluta consapevolezza che noi siamo... E no, è perché credevo di poter leggere gli appunti da sopra, ma l'avevo fatto all'ultimo momento, devo poterli anche leggere. Oggi, diciamo così, questa lotta, questa dura lotta è portata fino in fondo e costruita in Italia sotto varie mistificazioni, costruendo ogni tipo di divisione, mistificando completamente quel caleraltà. Il governo Letta, da questo punto di vista, è perfetto. Il governo Letta è un governo che unisce il peggio di tutto. Il peggio di Berlusconi, il peggio del centro-sinistra, l'ipocrisia della vecchia democrazia cristiana, un condensato di quel che è la classe dominante italiana nella sua combinazione col capitalismo europeo. E quindi non può essere sottovalutato, anche perché costruisce una contrapposizione centro-sinistra, centro-destra da tempo, in un contesto in cui da due anni in realtà c'è un governo di unità nazionale borghese e non a caso ha fatto gli sfraccelli. Da due anni il governo delle glasiche... Cioè, prima c'è stata l'azione di Berlusconi, insufficiente dal punto di vista della borghesia, senza che il PD, il centro-sinistra, i sindacati organizzassero veramente le lotte. Poi, a partire dal dicembre, novembre, dicembre del 2011, c'è un governo di unità nazionale, uso questo termine, unità nazionale dei padroni, delle forze borghese. E in effetti lo scontro è stato molto, molto duro, ma è finito per ora largamente a vantaggio loro e io non ritorno a fare l'elenco di tutto quello che è stato perso. È su tutti i terreni sociali, democratici, contrattuali e dentro questo quadro c'è un'altra mistificazione. La mistificazione di non mettere in evidenza, e nessuno lo fa, che, come al solito, quando c'è un'offensiva di questo genere, è colpita tutta la classe lavoratrice, ma alcuni sono più colpiti di altri. I migranti sono più colpiti, le donne sono più colpite, a tutti i livelli, che sono individuali, sociali, perché i tagli ai comuni, alle regioni, agli enti locali si ripercuotono immediatamente sui servizi sociali, sui lavori di cura, e si sa chi gestisce, chi fa questi lavori di cura. E io non sopporto, solo per dire, la mistificazione sulla questione che noi non valorizziamo i talenti, che ci sono i talenti che però non vengono valorizzati. Io voglio, una società deve utilizzare i talenti, ma una società non è che se tu sei donno o giovane hai dei diritti soltanto perché sei particolarmente intelligente o capace. Tu, che sei una normale donna, un normale giovane, un normale studente, hai diritto ad avere un futuro come tutti gli altri. Non è che hai diritto al futuro soltanto perché qualcuno ha deciso e che tu sei un genio matematico, sei qualcosa di questo genere qui. Trovo insopportabile questa altra mistificazione che viene costruita. Come è insopportabile la mistificazione, diciamo così, evidentemente la totale e completa legittimità per tutte le donne di poter accedere a qualsiasi carriera, ma c'è tutta l'esaltazione in questa nel momento in cui sono profondamente colpite l'intera generazione giovanile e non giovanile delle donne, cioè un intero genere è profondamente massacrato da questa crisi. E tutto questo non riesce più a emergere e cosa emerge soltanto? Io l'ho scritto anche nell'ultimo articolo. Nell'inchiesta, è stato detto qui, è stato detto anche da Eliana, emerge soltanto più nell'inchiesta o nelle statistiche, lì emerge la miseria, lì emerge l'oppressione, lì emerge la vera condizione delle lavoratrici e dei lavoratori, la vera condizione dei migranti, che hanno perso il posto di lavoro molto di più che gli italiani, senza avere i diritti civili italiani. E' mica poca cosa, una cosa di questo genere. Le donne, emergono quello nella forma di vittima, non vengono mai indicate le responsabilità, quali ne sono le cause, tanto meno, chi ha prodotto questo scegliendo determinate misure sociali ed economiche. E' sullo sfondo, è il destino cinico baro, è la condizione, è la povertà, è il retaggio, è tutto questo, al massimo, ecco signori, ecco ancora di qui che c'è un ente preposto a questo da duemila anni, la Chiesa Cattolica, che può intervenire con l'elemosita, con l'intervento, ed è chiaro che Francesco, la ci picchia, questo no, come? Non l'obbattore. No, Francesco, quello che viene chiamato Francesco, esattamente vuole giocare questo nuovo ruolo di credibilità. Sa che c'è questa sofferenza, sa che non c'è risposte. E ancora una volta, quel che rischia di essere proposto, è una cosa compassionevole, che poi ha il suo addentellato con, per esempio, con il servizio privato sanitario che è in mano alle compagnie cattoliche, uso questo, non mi viene un altro termine. C'è un magnifico incrocio di questa cosa qui, lui è abile a sfruttare questa cosa, sfrutta esattamente una canza di risposta, si inconquista una credibilità, magari dicendo cose giuste, anche qualche volta, ma dentro quell'ottica, che noi sappiamo, è l'ottica non di rovesciare il capitalismo, ma di porre un po' di sollievo alle miserie di questa valle di lacrime. Valle di lacrime, ovviamente per una parte della popolazione, e non certo per tutti. come è incredibile, che dice, nella crisi alcuni sono più ricchi di prima, quelli che erano ricchi sono ancora più ricchi, e anche questo evidentemente è un segno del destino, in realtà questo avviene perché Dio lo vuole, non perché c'è il fiscal compa, non perché hanno fatto le varie leggi finanziarie, non perché hanno tagliato le pensioni, io ho tagliato altre cose, io vado in giro e mi guardano incredulo, anche i parenti, le altre, amici, eccetera, quando gli dico, ogni sacrificio che voi state facendo, ogni lira che tirate fuori, o meglio euro che tirate fuori, ogni cosa che fate in questa direzione, altro non è che un trasferimento di ricchezza alle banche, ai profitti. sappiatele quando voi pagate un imo esagerato, quando pagate, diciamo, quando vai in pensione tre o quattro anni dopo, cinque anni dopo, non solo ti è stato tolto un pezzo del tuo tempo libero, della tua libertà, del tuo futuro, ma anche tu hai garantito la continuità dei profitti e la preservazione delle classi dominanti, delle banche, di tutto quello che ci sta attorno, ed è questo che è difficile da far capire. O chi lo capisce però scatti il meccanismo della rassegnazione. E qui subentra, in questo caso, mia nonna, nel senso che diceva sono sempre loro che hanno comandato e continueranno a comandare. Questa è la rassegnazione. Ma il marxismo, il movimento operaio, la sinistra, le organizzazioni sociali, sono nate per contrastare la demoralizzazione, per dire ci può essere un altro futuro, questa società come tutte le altre società precedenti, non sono scolpite né sulle tavole della legge, né diciamo sono eterne perché è voluto da Dio, ma sono fatti temporali e come fatti temporali possono essere cambiate attraverso la partecipazione, la mobilitazione, la lotta di classe. Era facile per la mia generazione spiegarlo, perché lo facevano tutti. Oggi è terralmente difficile e anche quelli della mia generazione molte volte sono ripiegati, ma non sono solo quelli della mia generazione, sono tanti altri. Io penso a quelli che sono i nostri figli, anche i miei figli, eccetera, che magari capiscono tutto. parlo di mio figlio per esempio, capisce tutto, ha la comprensione di tutto quel che avviene, ma proprio di fronte a questo ha solo una lettura, non pensa di poter partecipare al cambiamento attraverso quello che era invece l'impegno, io della nostra generazione di altri. Noi dobbiamo affrontare tutto questo, lo sappiamo, lo sappiamo da tempo, è un problema ovviamente di un'organizzazione politica rivoluzionaria. E in questo quadro qui è evidente che c'è un doppio elemento. Hai un elemento di voto per esempio su Grillo che è il frutto della mancanza di una mobilitazione sociale. tu voti Grillo come prima ti affidavi a qualcun altro perché non sei in grado di lottare nel tuo luogo di lavoro, perché non c'è nessuna mobilitazione, perché non c'è una CGL che ti chiama lo sciopero generale, perché non c'è una piattaforma comune e qui ti affidi a quello. Un Grillo, che lo dicevi in un'altra riunione, ha affinato la sua tattica parlamentare, ma dal punto di vista strategico è credinismo parlamentare il suo. credi di poter cambiare le cose attraverso il Parlamento e si guarda bene, minaccia la rivolta, ma ovviamente non ha nessun strumento, nessuna capacità di poter organizzare quello che invece sarebbe necessario, la forza propellente di un movimento sociale che può permettere anche eventualmente qualche vittoria parlamentare, qualche successo parlamentare. oppure altri ancora di più si affidano, appunto alcuni si affideranno anche a Francesco Primo. Francesco Primo però era anche Francesco Primo di un altro momento storico. e quindi noi abbiamo oggi in primo luogo un doppio compito. Abbiamo un doppio compito che è sostanzialmente questo. Primo quello di tenere aperto e questo è anche il senso del nostro nome l'ha rimessa in discussione l'inaccettabilità di questo sistema sociale capitalistico. è chiaro che noi non riusciamo ancora a parlare a tutti però l'idea che bisogna organizzare, che bisogna collegare, che bisogna unire coloro che vogliono, che non accettano, che si ribellano a questo stato di cose è un passaggio ineludibile. È in qualche modo il meccanismo attraverso cui facciamo crescere la coscienza di classe. Cremasca ha usato e l'ho sentito anche non da parte sua ma da altri la parola cultura. C'è un crollo della cultura. Mi pare che ha usato questo nella sua... Ora, se cultura è omologo, è sinonimo di coscienza di classe ok, ma io credo che sia meglio usare coscienza di classe perché cultura può dare l'impressione che sia un problema soltanto di educazione, di formazione. Che c'è? Ma la coscienza di classe classe è una combinazione tra l'azione di formazione, l'azione di formazione dell'avanguardia e le mobilitazioni sociali. È quella. Io ho visto, la mia generazione, ho visto certe volte cambiare nel giro di qualche giorno la consapevolezza della realtà sociale e politica attraverso una mobilitazione, attraverso un'occupazione di facoltà, attraverso una lotta delle fabbriche, attraverso uno sciopero generale in cui si sono ritrovati poi in una manifestazione centinaia di migliaia di lavoratori. C'è dei salti. Quel che tu non sei riuscito a far capire in anni e anni di paziente lavoro, di formazione, di discussione, eccetera, avviene nel giro di poco tempo. Improvvisamente si svelano, lo schermo si apre, si svela e si capisce cosa c'è dietro. Ora, in realtà ci sono anche altri settori che criticano questo, questo è un livello, ma l'altro livello è chiaro che è un livello su cui tornerò dopo di costruire le resistenze sociali a questa situazione. Però questa nostra impostazione ci permette di contrastare, di combattere che cosa? Quello che pensano che questo capitalismo è un momento particolare, parziale, quelli che pensano, per dirla con i napoletani, l'hanno tata da passà, ovviamente lo pronuncio male, mi chiedo scusa, cioè quelli che pensano che in qualche modo superato un po' questa crisi, introdotte politiche e cheinesiane, torna tutto come prima. Lo diceva già Sergio, non torna tutto come prima, non avremo più quello che abbiamo avuto, torniamo alle forme più dure, più violente della condizione materiale. la Grecia ci mostra quel che può essere la nostra condizione e prima ci muoviamo e prima abbiamo la possibilità di tornare indietro e noi ci troveremmo domani andassimo al governo sarebbe durissimo ristabilire pensioni, salari e tutto esattamente come prima. Sarebbe un lavoro di ricostruzione in una politica economica alternativa che prenderà dei tempi, delle difficoltà, delle tensioni. Cioè non è che giri l'interruttore e torna come prima degli anni dell'epoca d'oro. Si apre un'altra fase o vincono loro o vinciamo noi ma se vinciamo noi sarà un percorso duro per diciamo giusto di eguaglianza sociale di riconoscimento dei diritti di tutto ma che prenderà grande energie. il non aver fatto la rivoluzione secondo dopoguerra non è stata buona cosa non averla fatta negli anni 70 una cosa ancora peggiore diciamo perché lì c'erano le condizioni sociali economiche anche completamente diverse e decisamente più facili in realtà per identificare una transizione al socialismo più progressiva senza i grandi sconvolgimenti pur dentro gli scontri sociali e le prove di forza che inevitabilmente si pongono per contrastare il capitalismo e infatti ci sono dei compagni che hanno comprensione della gravità della crisi ma tuttavia pensano che hanno ancora delle illusioni che sia possibile attraverso anche le mobilitazioni e attraverso diciamo così perché dietro questo attraverso tutto questo sia possibile trovare l'alleanza con dei pezzi di borghesia razionali progressista eccetera per rifare quelle politiche nazionali espansive positive del passato ma questo non è possibile perché la fase di accumulazione del capitale è completamente diversa da quella di 40 50 anni fa siamo in un altro periodo storico non ci sarà questo non c'è questa borghesia l'unica cosa che ci può essere che è un altro meccanismo che la lotta di classe sia così forte che loro devono per cercare di sopravvivere mollare qualsiasi cosa ma non si può dire che in Grecia non sia stata molto forte ma non stanno mollando nulla perché non vogliono fare prigionieri loro come noi sanno vinciamo noi o vincono loro e quindi sono attrezzati proprio perché ha una coscienza maggiore quindi diciamo così è chiaro che tutti quelli che pensano che si può fare economia della mobilitazione sociale che si può prima o poi trovare l'accordo per un nuovo compromesso dinamico no? nessuno non c'è più il teorico del compromesso dinamico dinamico è morto ma è sottogiacente anzi per alcuni è ancora peggio diciamo non è neanche il compromesso dinamico è l'idea di poter ritrovare un'alleanza con certi settori che in qualche modo riporti indietro l'orologio della storia dal punto di vista di funzionamento dei meccanismi capitali ma non è così l'equilibrio capitalista nazionale internazionale è un altro la globalizzazione effettivamente c'è una razionalizzazione dal punto di vista della direzione borghese della globalizzazione con tanti contrasti con un caos che produce tutto quello che sappiamo c'è e non è che riportiamo indietro l'orologio della storia e quindi questa è la situazione e rifondazione da questo punto di vista riesce più di altro a essere tutto Rosso Spena qui ci racconta le belle cose nello stesso posto tagliano la sanità dove sono nelle giunte con gli altri è meraviglioso diciamo così io cioè non so al mattino alzandomi guardandomi allo specchio dovrei dire ma io chi sono sono l'assessore della giunta o sono il militante anticapitalista di rifondazione non lo so ma non è solo il gruppo dirigente questo lo trovate nella maggior parte dei compagni di questa organizzazione che pure e l'abbiamo detto per noi a differenza degli altri compagni che sono andati via che dicevano con questi manco più il caffè ci vado a prendere e poi hanno aggiunto perché tanto non ci sarà più nessuno di loro con cui dare a prendere il caffè ed è ovviamente un'illusione questi sono ancora la maggiore organizzazione da una parte e il caffè bisogna darglielo a prendere insieme non so se cambieranno però diciamo sono lì sono un pezzo del vecchio movimento operaio tu puoi guardare da un'altra parte puoi preferire altri come interlocutori sinceramente non sono più rivoluzionari di quelli di rifondazione hanno le medesime etare siamo tutti fatti della stessa pasta la sinistra hanno tutti i limiti e sono e sono poi magari dei settori che poi cercano per sostenere i loro movimenti sociali i loro pezzi di lavoro che fanno lobby qua e là per poterli in qualche modo inserirsi in quel che sono le fessure i piccoli spazi dell'organizzazione istituzionale borghese in questa in questa fase e qui diciamo così introduco brevemente un altro te un'altra cosa ci interessano no perché in rapporto con quanto detto prima le battaglie democratiche io dico sì io dico che ci interessano le battaglie democratiche noi vogliamo dette da qualcuno che però diciamo ha massacrato il libero voto e il libero voto non è solo il porcellum è tutte le leggi elettorali che si sono succedute è tutti gli sbarramenti che sono stati emessi per la rappresentanza nelle istituzioni che non sono solo il 4% guardate che hanno limitato la possibilità per la sinistra di essere dentro le istituzioni degli enti locali semplicemente riducendo il numero dei partiti facendo la lotta contro la casta hanno ridotto il numero dei consiglieri nei consigli degli enti locali e tu non entri più o entri soltanto se ti allei con determinate soggetti quindi c'è una riduzione della stessa democrazia borghese a tutti i livelli che è una cosa in cui non è stata colta ma è pesante questa cosa qui nello stesso tempo questi stessi enti locali gli hanno tagliato miliardi e miliardi di trasferimenti sociali e sono quelli che tagliano gli asili che fanno le cose poi con un rapporto bellissimo il sindaco della mia città è splendido da questo punto di vista ne fa di cotte di crude e poi dice no ma mi hanno tagliato i fondi è vero che gli hanno tagliato i fondi ma il suo partito che gli ha tagliato i fondi al governo quello stesso partito che rappresenta e infatti lui poi dice Marchionna aiutami tu Marchionna aiutami tu e tu dici cavolo ma c'è una c'è una sinistra che dà speranza Selle e gli altri c'è un sindacato FIOM guidato da IRAUDO che dà speranza no perché c'è non si sentiva più c'è c'è un'organizzazione che dà speranza che si può votare Selle c'è un sindacato a IRAUDO FIOM che dà speranza che ha fatto la lotta dei lavoratori della FIOM no peccato che poi abbia detto votate esattamente quelli che aveva detto quello cioè Fassino che aveva detto lavoratori seguite Marchionna quelli che vanno a fare le partite di carta con Marchionna che poi è diventato il presidente della della fondazione della San Paolo diciamo tutti personaggi terribili che io ho conosciuto in gioventù che non è che adesso adesso fanno le porcherie e una volta non l'hanno fatte è folle pensare che c'è qualche soluzione con loro che si possa condizionare sono alcuni di loro che hanno chiesto più di tutti la militarizzazione della valle di Susa quindi diciamo ritorno al filoniceo la battaglia democratica noi siamo per la battaglia democratica solo che per noi la battaglia democratica è quella per la libertà del singolo cittadino di poter votare chi vuole di avere tutta una serie di diritti ma è anche la battaglia democratica per i diritti sociali è la battaglia anche per il cittadino che è un essere sociale è la battaglia per il cittadino che è un lavoratore e quindi noi facciamo la battaglia per la costituzione ovviamente una costituzione che però è stata massacrata e non è stata massacrata solo perché ormai c'è una costituzione materiale che non corrisponda alla costituzione reale ma massacrata perché è stata già cambiata questa costituzione è stata cambiata dal centro-sinistra all'inizio del secolo col federalismo fiscale cosiddetto federalismo fiscale è stata cambiata in una serie di altri passaggi è stata cambiata con l'introduzione del pareggio di bilancio è stata cambiata nei fatti con l'accordo del 31 maggio e voi dove eravate? dove eravate? dove vi state muovendo? e tutta l'iniziativa di Landini e di Rodotà è minata da sotto come ho provato a dire anche al compagno Ferrero che naturalmente ha detto sì sì hai ragione però ma eh esatto è minata dal fatto che questi stessi pongono il loro orizzonte politico alla fin fine nel rapporto col mondo del PD e infatti l'intervista a Rodotà mi pare sul manifesto era esattamente l'ETA deve capire o qualcosa di questo genere qui no l'ETA capisce benissimo naturalmente sei tu che alla fin fine inganni qualcun altro o che ti fai le illusioni o meglio che ti conquisti un ruolo politico che susciti delle speranze che sollevi dei temi giusti ma in qualche modo le collochi in un ambito in una pratica che non porteranno a nessun successo anzi porteranno alla fine a ulteriori disillusioni ed arretramenti e quindi diciamo noi da questo punto di vista dobbiamo impostare un'attività politica in questo modo in un quadro che è ovviamente il tentativo di contrastare le politiche borghesi che hanno un'ispirazione europea una costruzione europea e una sua applicazione a livello nazionale con fatica perché sarà faticoso dobbiamo provare a collegare quel che è il fiscal compact le sue regole e tutto quanto alla condizione materiale quotidiana di ciascuno se tu vai in ospedale e devi aspettare un anno per un intervento se tu non trovi più la possibilità di avere un asilo se tu diciamo hai una scuola degradata tutto questo è in rapporto con quelle misure con quelle scelte con quel governo non con Berlusconi Berlusconi è orribile ma se ci fosse stata un'altra politica Berlusconi sarebbe già effettivamente in pensione invece non è in pensione allora tutto e da questo punto di vista l'approccio nostro è combattere l'insieme delle politiche di austerità certo io non diciamo è chiaro che mi è molto difficile con chiunque parlo spiegargli che tra la sua condizione materiale il fiscal compact c'è un rapporto però è la cosa che dobbiamo studiare meglio come questo rapporto noi lo costruviamo lo facciamo capire rendiamo efficace le nostre campagne e il nostro approccio deve essere appunto rigettare le politiche europee rigettare i ricatti sconfiggere quel governo che applica quelle regole quel governo che come spiegava Francesco dice che assume dei insegnanti e in realtà era pazzesco 400 milioni in più se mi ricordo bene per la scuola quando ne hanno tagliato 7-8 miliardi cioè una cosa semplicemente diciamo così spaventosa come tipo di mistificazione io credo dobbiamo fare tutto questo per questo siamo abbastanza scettici sulla questione di prendere questo problema dalla coda cioè dell'espressione monetaria delle politiche dell'austerità cioè della forma monetaria finale cioè sostanzialmente di affrontare la questione di questa battaglia politica soltanto dicendo usciamo dall'euro o rompere con l'euro è vero credo che Igor ne abbia parlato è una sensibilità di massa perché il peggioramento delle loro condizioni è legato all'introduzione dell'euro da cui poi via via si è accentuato quindi tu vedi quello diciamo è la prima cosa che vedi vedi l'albero e meno la foresta che c'è dietro e pensi che tagliando quell'albero forse hai risolto i tuoi problemi o credi di averli risolti i problemi tutto questo noi pone un grosso problema a nostra volta perché se la sensibilità di massa è solo a questo livello tu non puoi non tenerne conto questo è il senso della discussione era anche il senso della discussione tenerne conto però tu sai che dietro c'è tutti quei problemi là che sono stati illustrati in modo esemplare nella relazione di ieri che non è la soluzione semplicemente lì in quella cosa lì e questo è il primo problema il secondo problema è che tutto diciamo c'è qualche illusione di troppo nel fatto che quello possa costruire una mobilitazione di massa un'eventuale mobilitazione di massa tanto più un referendum alla grillo solo su quella slegata su una lotta sociale reale per i contenuti a positivo rischia fortemente di essere geomonizzata non da te non dalla sinistra ma da qualcun'altra e anche qui ritorna la vecchia illusione di alcuni settori della sinistra che intorno a questo tu ricostruisci una politica nazionale competitiva una politica unitaria con la borghesia il famoso nuovo compromesso in questo nuovo quadro noi discuteremo di questo anche in rosso ne sono sicuro di questa cosa qui e attenzione è qui la diversità che poneva anche il compagno ieri perché lì hanno una lotta dispiegata di classe di un certo genere di una certa forza in cui il problema del governo e del cacciato del governo di farlo un altro e la prospettiva di un governo di sinistra c'è e allora qual è la proposta di posizione noi butteremo via il memorandum cacceremo la troica prenderemo tutte le misure necessarie per difendere i lavoratori compreso se necessario anche la rottura dell'euro e l'uscita dell'euro ma per fare tutta una serie di cose e non fatto da un governo borghese capitalista in alleanza con qualcuno di loro ma come misura di un governo più che di sinistra o meglio di un governo di sinistra come ha detto lui con le sole forze del movimento operaio con le sole forze del movimento operaio è basato sulla mobilitazione di massa perché se no non c'è governo di sinistra non c'è possibilità capite il taglio noi non siamo ancora lì no però è utile non siamo ancora lì ma quel che ci ha detto lui è utile per la nostra riflessione è utile per quel che sarà il nostro dibattito è utile avere dei compagni e delle compagne preparate su questo oppure no questo credo che deve essere il nostro approccio e la nostra angolatura quindi da una parte il fatto che non c'è la soluzione taumaturgica il fatto che è molto ma che qualsiasi misura deve essere perché anche la riduzione dell'orario di lavoro di Gigi può essere posta dentro semplicemente un'ottica di ridistribuzione della miseria tu riduci l'orario e riduci salario e tutto quanto in realtà non c'è nessuna misura salvifica che ti risolve tutto quanto c'è solo una combinazione tra programma lotte rivendicazioni che determinano la mobilizzazione cambiamento dei rapporti di forza e aggiungo una direzione politica rivoluzionaria posso dire questo tutto questo diciamo è per questo che anche i compagni attenzione in Grecia lavorano l'ha detto lui no questo forse l'ha detto Schala a modificare i rapporti di forza lui ha usato questa espressione qui a modificare i rapporti di forza tra le classi a modificare le mobilizzazioni a modificare i rapporti di forza con le forze politiche borghesi a modificare i rapporti di forza all'interno della sinistra e nel caso di idea a modificare i rapporti di forza dentro l'organizzazione in Siriza strappando dell'egemonia o condizionando l'attuale direzione oscillante con caratteristica anche socialdemocratica e questo per questo che loro hanno rifiutato di sciogliere la loro organizzazione perché voleva dire dare l'egemonia nel momento in cui il problema della crisi delle elezioni potrebbe riportare anche Siriza effettivamente al governo in cui forze borghese hanno cominciato anche il corteggiamento sapendo che hanno strumenti eccezionali per poterli condizionare e quindi io affronterei la cosa in questo modo che mi permette anche di arrivare alla questione centrale in forza della nostra discussione perché in questo quadro noi dobbiamo dire rompere la situazione che c'è che Sergio anche diceva ma questo in qualsiasi lotta no? in qualsiasi lotta dice però occorrerebbe l'intervento del governo per salvare questa fabbrica occorrerebbe l'intervento del governo occorrerebbe un'altra legge che per esempio permette di riandare in pensione a altre età occorrerebbe distruggere tutte le leggi che sono state fatte negli ultimi 15 anni in particolare negli ultimi 3 anni per ridare tutti quanti i diritti e allora ti dici cavolo ma allora allora mi affido a Vendo allora mi affido a quell'altro spero di San Francesco Francesco adesso Francesco di 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 tutta una cosa di di questo genere e invece noi dobbiamo dire un'altra cosa guardate che certo che incorrerebbe l'intervento del governo però tu non l'avrai non avrai niente se non si crea le condizioni e le condizioni è solo che tu cominci non a fare clic mi piace o a guardare la televisione guardando il dibattito ah diciamo questo è più bravo o a ridere a crozza non sopporto più i comici posso? Sono alla fine risultano hanno una funzione esattamente consolatoria ma non perché non possono far ridere se poi continua a prendere Berlusconi facciano dell'ironia sulle cose peggiori che sono sull'ETA sugli altri ma ironia sulle vere scelte che loro stanno vere porcherie che stanno facendo che solo raramente possono venire fuori anche nella forma nella satra no perché è insopportabile lo scelario televisivo da questo punto di vista è un elemento di conservatorismo forte non solo i talk show che permettono di non capire nulla e di mistifare tutto quanto e quando chiamano Kremaschi è attorniato da destra centro-sinistra e tutto però sono tutti contro di lui se c'è lui o se fosse qualcuno di noi sarebbero diciamo che peraltro non ci chiamano diciamo così per ora non corriamo questo rischio però diciamo così lo potremo e diciamo noi dobbiamo dire con forza diciamo questo aspetto qui e quindi in primo luogo la ricostruzione delle resistenze sociali la ricostruzione delle resistenze sociali passa attraverso far vivere la sinistra sindacale noi che è un doppio valore noi dobbiamo far vivere aiutare a far vivere alcune migliaia di quadri orientati sulla lotta di classe attraverso i vari sindacati nelle fabbriche nelle aziende negli uffici pubblici e privati cioè guardate se scompare questo abbiamo perso se non c'è quella è la prima molla è il primo moto questo sarà favorito ovviamente se certi settori si mettono in mobilitazione però è col clima che c'è dipende un po' se c'è un equip un gruppo in una determinata fabbrica che ci crede o non ci crede adesso ci sono 4 o 5 le fabbriche dove c'è un'avanguardia capace di mobilità poi ci sono alcuni settori pubblici può essere ma per questo deve vivere la sinistra sindacale in CGL per questo deve esserci unità ed è se le mobilitazioni sociali non dipendono da noi dipendono da tanti altri fattori la questione della sinistra sindacale dipende anche da noi per questo è delirante la scelta degli altri compagni che hanno considerato inutile o secondario il nostro inserimento sociale sui luoghi di lavoro e nei sindacati visti soltanto come luoghi della burocrazia diceva un compagno appunto dice loro hanno scelto un posto dove non c'è la burocrazia in realtà ci sono altri miliei semi burocratici e poi invece nella classe operaia scuso certe volte uso questo termine ma in realtà non penso solo ai lavoratori della fabbrica penso ai dipendenti pubblici penso alle lavoratrici degli ospedali penso agli insegnanti penso a a a a a tutte quelle che fanno l'attività sociale lì invece lasci soltanto CGL e Cisle Will ma che bravi che sei così almeno non succede nulla cioè loro CGL e Cisle Will invece si preoccupano di esserci lì tant'è vero che arrivano pur di mantenersi lì a fare i peggiori accordi con la burocrazia con la borghesia a garantirsi la loro presenza da parato perché sanno che devono controllare il movimento dei lavoratori per stoppare anche per la loro preservazione e il loro rapporto con la borghesia che lì ci siano delle mobilitazioni troppo facile guardare da un'altra parte soltanto no non mi piace questo mi scelgo dove fare la rotta di classe è una cosa diversa mi concentro in alcuni settori anche per fare uno sfondamento per conquistare determinate cose ma non si può voltare le spalle alla grande massa dei lavoratori e capire che deve essere conquistata una presenza in quel che è che sono l'80 il 90% della popolazione poi e che in questo modo parli anche ai precari al mondo dei precari e provi a costruire un rapporto tra chi apparentemente e sempre meno ha un rapporto di lavoro sicuro e gli altri e questo però tutto questo ha un rapporto anche con rossa perché è chiaro che serve le resistenze sociali una sinistra sindacale e riunire delle forze anticapitaliste che alimentino questo processo è un'azione sinergica questo tipo di di cosa ma non semplicemente perché andiamo in rossa perché rossa sarà o non sarà una cosa utile e ben orientata anche secondo della nostra forza e della nostra capacità di intervento o di orientamento la costruzione di sinistra anticapitalista non è solo un atto di orgoglio necessario non è solo l'idea di un'organizzazione rivoluzionaria che si porta con sé una concezione democratica delle lotte dell'organizzazione delle lotte la critica a ogni forma di apparati di burocrazia l'anticapitalismo la volontà di costruire una società gestita in un modo completamente diverso è tutto questo e proprio perché è tutto questo deve essere attiva nella costruzione dei due passaggi indicati oggi salvare il soldato Ryan contribuire all'esistenza della sinistra di classe cominciare a ricostruire a ricomporre una sinistra anticapitalista e questo per noi è difficilissimo compito a livello locale a livello nazionale sarà anche quello di discutere l'impiego delle forze perché con quel e anche come sarà i torinesi sono terrorizzati perché devono e quindi anche il sottoscritto e diciamo così devono pensare a dirigere sinistra anticapitalista e costruirla la rete 28 aprile è rossa cosa ogni giorno tira sorte dove mi impegno di più cioè come costruisco questa sinergia l'equilibrio è molto è più difficile ed è diverso da città e città dell'impiego delle forze no però occorre una un pilotaggio nazionale della cosa se no ognuno parte e quello che abbiamo già visto che è già successo che non è un destino cinico varo per cui una parte dei compagni ha detto io faccio solo più il movimento il cosiddetto può succedere perché nessuno i compagni che sono impegnati nella sinistra sindacale a rete 28 aprile non sono una cosa a cui deleghiamo loro anche sono una parte della nostra forza come organizzazione politica e come tale anche devono concepirsi e agire capite tutti questi e questo questo vuol dire creare un gruppo di gente perché si decide dall'alto no perché semplicemente si discute ed è un'azione collettiva io lo metto così siamo qui e siamo contenti siamo molto contenti e chi l'ha vissuto diciamo centralmente è terribilmente contento perché non non lo so non avrei scommesso tanto ecco diciamo così e ovviamente la cosa è riuscita per l'impegno di tutte voi e tutti voi anche era importante però qualcuno centralmente si assumesse questo compito e digesse ce la possiamo fare perché è importante che ci sia qualcuno che dica così se no c'è la parcializzazione allora solo che dietro adesso qui cito addirittura bre dietro abbiamo diceva lui abbiamo le fatiche della montagna cioè aver salvato un'organizzazione dietro abbiamo davanti abbiamo le fatiche della pianura diceva lui ovvero sia il lavoro quotidiano di costruzione dell'organizzazione su cui già non è riuscita la vecchia sinistra critica e quindi non è che automaticamente riesce a noi è tutta da costruire questa capacità nella sua articolazione nelle sue possibilità e sul passato io mi limito a dire tre cose brevissime diciamo così io credo che il gruppo dirigente che aveva diretto la battaglia di corrente in rifondazione è stata all'altezza di quella battaglia di corrente non era all'altezza della costruzione di un'organizzazione indipendente non aveva la consapevolezza e per di più evidentemente è uscito e questo è assolutamente umano con un certo squilibrio avendo dovuto lottare contro una posizione burocratica ed apparato un'impostazione semplicistica sul rapporto tra organizzazione e movimenti nella sua capacità quotidiana di fare attività politica ma questo sarebbe stato superabile se il gruppo dirigente avesse mantenuto una discussione e avuto la possibilità di una discussione quotidiana tutti insieme e invece questo non è stato possibile in primo luogo e soprattutto per ragioni obiettive e a questo punto è inevitabile che le esperienze di ciascuno si consolidano non siano discusse e si trasformino in posizioni più cristallizzate e determinate cioè in progette e idee anche strategiche completamente diverse è chiaro che delle propensioni potevano esserci anche prima però una cosa se hai la discussione politica se non ce l'hai io che sono nel centro sociale su quell'altra parte mi faccio influenzare da Tizio Caio da Semprodio magari pensando che sono io che l'influenzo non è così perché in Italia per di più in certi settori come è stato detto c'è una consolidata presenza egemonica di ideologia di idee del negrismo come da un'altra parte c'è una consolidata presenza di togliatti del togliattismo della storia del partito comunista eccetera eccetera e noi la posizione che portiamo è sempre stata minoritaria senza grandi intellettuali anche che la difendessi e con forze materiali limitati per cui vedete io ho una comprensione obiettiva della cosa Nando ha spiegato anche che poi ovviamente la condizione materiale di ciascuno favorisce anche certe linee o piuttosto a altre certe riferimenti piuttosto che altre e anche questo è tutto avvenuto noi non volevamo la scissione c'è stata imposta via via avevamo detto si può fare anche esperienze diverse il problema è che loro a un certo punto hanno detto anche sinistra critica in quanto organizzazione fa parte del vecchio movimento operaio inutile e dannoso e la sua attività le sue campagne i suoi volantini la sua iniziativa non è utile ma anzi non ci interessa ed è dannosa quindi vogliamo liberarcelo però anche noi noi eravamo responsabili perché anche noi eravamo parte di quella direzione i compagni esteri che c'erano qui avevano due tipi di atteggiamento da una parte volevano capire quel successo e non sapevano dall'altra parte quando tu da lontano vedi una divisione di questo genere sono rimasti sorpresi del fatto che qui c'era questa assemblea con questa composizione con questa presenza con questa rappresentanza che è stata conquistata anche attraverso la vostra attività ma ha cambiato qualcosa anche che su scala internazionale qualcuno scommettesse su di noi e ci aiutassimo a costruire le relazioni da solo questa organizzazione e questo collettivo forse non ce l'avrebbe fatto lo dico certo non avremmo avuto quella interlocuzione internazionale che c'è stato qui quindi noi oggi facciamo il primo passo e poi c'è tante altre cose primo individuare quale campagna politica dentro quel quadro se è possibile concretizzarla di più riprendiamo il tema della salario sociale cioè dobbiamo impartire cioè nel quadro complessivo di tutti i nostri obiettivi individuare se c'è un'asse una cosa più concreta su cui concentriamo più forza per fare il discorso complessivo che ci permetta di rapportarsi di più a determini settori e organizzare oppure a collegarsi a settori che stanno mobilitandosi su quella tematica lì e questo è un compito che possiamo discutere nelle prossime settimane già a livello locale e come coordinamento nazionale c'è un orientamento di fondo ma c'è una costruzione processuale noi avremmo dovuto stare qui cinque giorni per discutere di tutto e quindi alcune cose un po' alla volta le facciamo primo ricostruire tutti i circoli recuperare delle forze che erano delle vecchie a sinistra critica ma conquistarne delle altre recreare dei collettivi locali individuare i settori di lavoro praticabili cioè delle priorità e dargli dei diritti qualcuno che li coordini e li diriga non un nome lì non una patacca lì ma che poi lo faccia capite io l'ho visto cento volte dare i nomi delle patacche e poi o il compagno o la compagna non ne aveva certe volte poteva in astratto averne le capacità ma non aveva i tempi possibili di lavoro e le risorse necessarie per farlo per questo occorrono delle priorità e diciamo così costruire le riflessioni su una serie di terreni che per noi sono fondamentali lo vedrete nella mozione che è quello del seminario sull'ecosocialismo ma Antonella ha raccontato qui tutto il lavoro che certo è stato parziale delle compagnie ma io credo fatti in questi giorni ma fondamentale per noi per farsi riconoscere per premere sui maschi e sui compagni per definire un programma di lavoro per fare quel cadetto Antonella cioè non solo perché molte compagne hanno un intervento femminista o un intervento sul loro luogo di lavoro che ha anche questa valenza ma è la struttura complessiva dell'organizzazione che deve riuscire a rientrarne in possesso di questo o meglio diciamo riuscire a interiorizzare per tutti uso il plurale maschile in questo caso correttamente questa dimensione questa natura della nostra organizzazione quello che vuole essere questa organizzazione e naturalmente nell'immediato anche sottoscrizione e tesseramento sono tutte cose assolutamente indispensabili perché se no non possiamo fare questo io l'ho spiegato alla commissione organizzazione noi siamo andati avanti con donazioni e interventi di singoli compagni in questo periodo dal punto di vista economico ma la questione finanziaria non è una questione tecnica la questione finanziaria è parte della militanza la militanza in un'organizzazione rivoluzionaria è anche un'assunzione di responsabilità perché io milito per una causa e per questa causa mi impegno anche finanziariamente mi dicevano i soliti svizzeri che diciamo ci sono dei psichiatri che dicono sì la nostra parcella costa molto ma solo se il paziente è disposto a sottrarsi qualcosa a rinunciare a qualcosa vuol dire che ha una vera volontà di guarigione e quindi al di là dell'aspetto ovviamente ideologico per fare alte parcelle diciamo per fare alte parcelle è chiaro che diciamo così è chiaro che se io dico voglio cambiare la realtà ma voglio cambiare la realtà soltanto guardando la televisione applaudendo una volta la Bertinotti che parlavo qualcun altro ma non do anche l'impegno militante dentro questo impegno militante anche l'impegno finanziario di persona per sostenere le campagne è chiaro che la motivazione è parziale lo dico perché tutto questo è stato perso pensate sinistra critica aveva rinunciato anche alle campagne nazionali di sottoscrizione e c'era soltanto una sola formula che c'era le quote dentro integrate da una teorica sottoscrizione la sottoscrizione vuol dire che tu organizzazione vai fuori e dice sostieni l'organizzazione che pensa in questo modo qui capite che è un approccio e un'attività completamente diversa queste le prove cose che proviamo a fare nella prossima fase e infine le questioni internazionali su due cose uno ho già detto tutta l'Europa e tutta l'Europa è i rapporti internazionali con l'altra organizzazione è quell'approccio che ho detto è l'approccio che ci ha fatto conoscere cos'è la Germania io penso che nessuno di noi più anche solo per sbaglio esca di qui e dica ai tedeschi alla Germania errore gravissimo è confondere la classe con ma è storico questa cosa qui pochi si dimenticano tanti si dimenticano che il nazismo prima di invadere l'Europa e fare i disastri ha massacrato la classe lavoratrice tedesca prima c'è stata la sconfitta della classe tedesca la terribile sconfitta che ha cambiato la storia eh cioè quando un tale scrisse il futuro dell'Europa è nella vicenda tedesca adesso non mi ricordo più la frase all'inizio degli anni trenta la situazione in Germania esatto era lì e infatti la sconfitta in Germania ha significato la seconda guerra mondiale è tutto quel che segue e anche oggi non è che basta l'unità dei paesi PIX quel che avverrà in Germania sarà decisivo per le sorti dell'Europa la Germania poi la borghesia tedesca ha una certa propensione a unificare l'Europa la sua storica storica pochi sanno che in qualche modo l'unificazione dell'Europa era molto avanzata anche all'inizio del secolo ventesimo e poi la maggior unificazione dell'Europa e il maggior livello produttivo industriale della Germania sapete quanto è avvenuto provate a indovinare l'anno 1944 1944 c'era praticamente l'Europa unificata lo dico perché diciamo c'è un ammintor c'è l'incompleto diciamo la Germania è così è come non lo so ci sono le maree poi c'è la Germania e no sono un fatto sociale c'è la lotta di classe pure lì certo poi è la borghesia più forte e quindi diciamo costruisce le sue alleanze e il suo percorso quindi la battaglia delle classi a partire dalla Grecia il sostegno alla Grecia su cui abbiamo fatto niente viva Sirizza facciamo Sirizza qui insomma insopportabile anche insopportabile il poco che abbiamo fatto il nulla che abbiamo fatto con la sinistra critica sinistra anticapitalista deve anche riaprire delle campagne delle battaglie di solidarietà oggi lo possiamo fare in modo completamente diverso perché abbiamo costruito questi rapporti con loro ma anche con i tedeschi con quelli che vogliono essere in una situazione di una lotta di classe disastrosa ovviamente in Germania due che è la seconda cosa qualcuno fa un grande casino su quel che succede nei paesi arabi ed intorno lì ci sono delle rivoluzioni sociali prodotte da una combinazione tra le politiche liberiste d'autorità praticate dalle vari governi e dittature e le concrete dittature che c'erano e che ci sono in una combinazione tra motivazioni sociali e motivazioni democratiche importantissime e con la presenza di tutte le forze politiche lì forze politiche voglio dire l'islamismo reazionario fascista e compreso l'imperialismo certo che c'è anche l'imperialismo mica sta a guardare c'è una lotta contro una dittatura eccetera dice mica la lascio che vada per conto suo intervengo anch'io per i miei interessi gestisco anch'io è tutto quello che aveva detto dall'inizio io ho l'impressione in Italia una parte della scienza italiana quando finalmente Obama ha detto ma adesso interveniamo sapevano che cosa dire perché prima non sapevano cosa dire sulla Siria l'idea che le masse siriane e di quei paesi hanno gli stessi diritti di avere dei diritti democratici come noi in Italia non gli passa per la testa una cosa di questo genere e noi non sappiamo come finirà tutta quella storia è chiaro che anche nella rivoluzione russa se Cornilo aveva successo non ci sarebbe stata la rivoluzione russa ma ci sarebbe stata la dittatura nera più violente possibile di questo mondo ma invece Cornilo è stato fermato e qualche mese dopo c'è stata la rivoluzione d'ottobre ma potrei fare altri esempi nella storia io a Torino ho fatto questo anche per ricordare il Cilio il colpo di stato di Franco non è riuscito in tutta la Spagna solo perché c'era una tradizione anche un po' armata militare di anarchici un po' degli altri che era c'era già stata un'insurrezione della Sturie qualche anno prima e quindi quando è scattato il pronunciamento di Franco loro non hanno aspettato loro questi hanno preso le armi che avevano e hanno dato l'assalto alle caserme in cui erano stati impolenti a muoversi quelli e li hanno fatto fuori si sono impadronite delle armi e le hanno distribuite no? se non sarebbe la storia sarebbe stata diversa come tipo di quindi diciamo lì non sappiamo alla fine che vincerà però noi puntiamo le carte sosteniamo le battaglie democratiche e sociali sosteniamo le forze anche minoritarie che le rappresentano e non facciamo la cazzata bestiale di dire che il nemico del mio nemico come fanno in tanti è mio amico porco Giuda e tantomeno ritiriamo fuori una concezione campista priva di senso con Assad contro l'imperialismo i compagni prego accomodatevi in Siria cioè no ma davvero e l'ha fatto non so se avete visto la cosa terribile diciamo così mi ha segnalato che Rossi quello che ha votato una volta perché poi non l'ha mai più fatto è andato a omaggiare Assad insieme ai fascisti nazisti altre cose forze di questo genere purtroppo un articolo facendo la biografia dei vari personaggi ha detto anche quello che insieme a Turigliatto ha votato contro la guerra ma mi succede mi trovo sempre diciamo così sì sì la Repubblica invece ha scritto l'altra settimana che sono indimenticabile diciamo così io speravo niente questo no no dimenticabile semmai qualcun altro o altra mi ricordasse ecco diciamo così ma non questo non non era e quindi per noi non è anche questo la campagna a sostegno dei processi rivoluzionari che evidentemente distingue fratelli musulmani che diciamo ha ben chiaro cosa l'imperialismo vuole fare ma che si pone dal punto di vista delle classi oppresse e non in una geopolitica presunta che non c'è credo che sia uno dei nostri dei nostri compiti e infine perché tutto questo fa parte anche della nostra identità del lavoro che dobbiamo fare e infine ed infine anche diciamo così nella capacità di costruire quei rapporti che qui su questo non mi dilungo che abbiamo costruito cioè chi è venuto qui a questa tribuna ed era di un altro paese non ha fatto l'intervento semplicemente per dire guardate come sono bello l'abbiamo fatto anche noi questa cosa qui l'abbiamo fatto molte volte nella quarta anche per chi la quarta viene no l'ha fatto dei compagni che ci hanno raccontato concretamente non solo ma che hanno assistito anche a tutto il congresso capite questa è anche la cosa sono stati qui a discutere con noi con tutto quanto io ero quasi terrorizzato da quel che succedeva in Grecia e questo dirigente della sinistra greca era qui a discutere con noi no non l'avrebbe cioè è perché capiva che era importante che ci trasmettesse quel che loro stanno facendo e capisse quel che facciamo noi perché capiva che in questo modo rafforzava noi e si rafforzava lui no è questa la cosa è anche la cosa che io non ho mai visto in nessun congresso è l'acquisizione cioè è il passo avanti più forte che abbiamo fatto oltre che mantenere l'organizzazione e infine proprio per tutta questa cosa qui per la storia che ho detto di grande demoralizzazione e difficoltà per la violenza dell'avversario di classe io non lo so a me pare chiaro che bisogna fare un'organizzazione politica complessiva gli altri sono organizzati cattivi brutti sporchi eccetera hanno le armi eccetera e cosa faccio farfalleggio gioco col computer con tutto no ma poi si utilizzano li stiamo utilizzando bravissimo il compagno locantore aver creato un elemento che è stato un elemento di centralizzazione e di tenuta per tutti ma è chiaro che io voglio delle persone uomini e donne che partecipano uscendo dalle loro case lasciando un momentino il computer e un'altra cosa in riunioni in momenti in sedi in attività fuori nelle piazze eccetera una esperienza collettiva perché così si cresce tutti esattamente per questo non ci sono deleghe o libe questa organizzazione va e noi vogliamo essere questo e serve non è un'altra cosa ce la faremo prima cosa bisogna che ci crediamo a quelli che siamo qui no dobbiamo crederci in fondo ci crediamo a quelli che sono venuti qui dobbiamo trasmettere anche queste giornate a quelli che non c'erano il più possibile che non è solo che noi scriviamo un articolo vuol dire che ciascun compagno e compagna deve parlare vuol dire che dovremo fare molti viaggi diciamo tutto il litorale Adriatico ci sono delle possibilità abbiamo discusso con i compagni della Puglia anche diciamo di inizi di nuovi rapporti sia di movimento sia sociali sia di politica dobbiamo fare tutto questo ce la faremo io posso solo dire che la violenza dell'attacco borghese di questa fase ci ha posto in una condizione molto precisa cito qui un tale che si chiama Carlo Mars che dice questo lo cito a memoria perché non ho la cosa dice le rivoluzioni borghesi sono come dei fuochi d'artificio si susseguono uno come l'altro e salgo sempre più in alto in cielo attivate dai loro successi parla della rivoluzione della borghesia contro il feudalesimo le rivoluzioni proletarie che danno l'assalto al cielo invece che cosa succede succede che danno l'assalto al cielo solo per ripiegare per essere sconfitte per doversi ripensare con sempre più difficoltà e poi ripartono provano a riavanzare altre volte vengono cacciati indietro noi non pensavamo che il novecento ci desse questo ritorno indietro così forte compreso là dove si era vinto che in realtà non una transizione al socialismo ma una società burocratica e poi capitalista fosse diciamo rimessi in piedi eravamo più speranzosi perché sta nella vita umana di sperare che ci sia il cambiamento però questo si ripropone assolutamente oggi perché c'è quella borghesia quel capitalismo chi non si vuole rassegnare deve misurarsi con quella lotta e alla fine Mars dice per le rivoluzioni proletarie finché alla fine non si pone il problema fondamentale cioè la posta finale e dice i grodus i xaltat ora a me piace molto i grodus perché il rodus non è solo la posta in gioco la cosa ma è rodi ovvero sia la rosa e sapete che mi piacciono le rose quindi qui è la rosa qui è la posta in gioco e qui ti devi misurare le generazioni precedenti alla nostra della classe si sono misurati che la lotta di classe 900 hanno vinto e perso più volte io continuo a pensare che sia di orgoglio per orgoglio nostro diciamo così decidere di provarci ancora in connessione con la nostra classe noi siamo crediamo in quei lavoratori come diceva Eliana ieri e lavoratrici crediamo in quelli li vediamo oggi abbattute e qui potrei far no non faccio l'altra citazione di un grande altre abbattute eppure li abbiamo piegati però sappiamo anche dalla storia che quell'abbattimento che quel ripiegamento può domani essere superato perché le contraddizioni ci sono non è la fiducia che c'è l'al di là esistenza eccetera è una fiducia sulla possibilità delle contraddizioni sociali ed economiche e sulla possibilità che le classi proletarie possono ricostruire questo percorso dirlo qui in una sala così piccola sembra esagerato però è in primo luogo un impegno personale collettivo che ci prendiamo di essere dalla parte giusta della barricata grazie 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 a tutti grazie a tutti